Apertura facoltativa nei giorni festivi e nelle domeniche, senza limiti di orari, per acconciatori ed estetiste, a partire da domani 28 aprile fino al 31 luglio prossimo, tranne nel caso in cui il comune venga inserito in zona rossa, fatti salvi periodi di sospensione dell'efficace del provvedimento con atti regionali e governativi sulla base delle norme vigenti e quanto disposto dal sindaco della città di Sulmona, Anna Maria Casini, che ha fermato questa mattina l'apposita ordinanza. Si tratta di un ulteriore atto teso ad agevolare più possibili attività commerciali cittadine che sono state penalizzate in questo lungo periodo difficile e complesso a causa della pandemia, autorizzando l'apertura anche la domenica o nei giorni di festa, senza limiti di orari, sempre nel rispetto della normativa vigente anti-covid, spiega il sindaco che aggiunge. Per agevolare particolari categorie abbiamo un ritenuto strategico, dunque a partire da domani, giorno del santo patrono, in vista anche dell'imminente primo maggio, di consentire estetiste e parrucchieri un arco temporale maggiore di apertura delle attività, al fine di poter soddisfare le prevedibili e numerose prenotazioni da parte dei clienti e garantire rispetto delle normative vigenti circa accessi e procedure igienico-sanitarie. Stiamo mettendo in campo tutto il possibile nel rispetto delle norme anti-covid, al fine di poter facilitare tutti gli esercenti delle numerose attività commerciali, artigianali e produttive della nostra città che stanno affrontando gravi difficoltà economiche.